Buongiorno 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 Giusto papo? Ma lo sai? È già giù in cabria Sì Sì Hai peluccia attacchià Eh Che ha passato? Domenica mattina Domenica pomeriggio si ha Perché già da la buona ha cominciato a lavorare Già domani lavora all'estero lungo Sì 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 Piccante? Non c'è buono ragazzi Non c'è buono Non c'è buono Non c'è buono Sì Musica Non c'è buono Non c'è buono Non c'è buono Pagbano Non c'è buono Ave bolidino Banana Sì Drome C'è buono Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.